eccoci qua un po' di assenza ma ritorniamo oggi stiamo sempre tra la fine dell'ottocento che mi confondo di secoli scusate ho vissuto troppi secoli mentalmente tra la fine dell'ottocento inizio del novecento parliamo di teoria economica molto brillante che ancora grandi influssi anche se non c'entra proprio direttamente con la teoria della crescita però come vedrete in futuro se avete la pazienza siete bravi diffondete un po' di più sti video perché siete partiti tutti entusiasti te tipici italiani diecimila che bello marino e boldrini ci insegnano teoria della crescita la rava la fava in italiano we're gonna do it in english for now so you get pissed off professore che è professoressa studente dottore non so come chiamare dario dottore saremo qua apriamo appunti e poi siete spariti e noi che cazzo stiamo a fare ma nel canale comunque la gente era interessata la lezione che hai fatto a bologna comunque ce n'erano un po' quindi l'interesse è a bologna perché dicevo delle parole così facevo le battute perché reno la magna insomma gli piace lo spettacolo questa invece è roba seria bologna ho fatto un escursus ho parlato cercato di spiegare che marx non era un'anguria e lo ribadisco he wasn't marx non era un'anguria amava e aveva una fascinazione per il progresso tecnologico va bene quindi detto altrimenti parleremo di due signori uno che games prende sempre in giro fra un po' arriveremo a Keynes sapete che c'è uno study group nuovo quest'anno e costringo tutti i studenti fra tutti i keynesiani a studiarsi la teoria generale per davvero l'ho riaperto dopo vent'anni che l'avevo letta l'ultima volta e fa veramente ridere è una roba incoere poi se la prende sempre quel professor pigu che poi è molto divertente se la prende con tutti però gli altri li chiama ricardo smith invece pigu siccome ancora vivo e lavorava a Cambridge lo chiama professor pigu allora dario ci parlerà di pigu anzitutto e poi se avanza un attimo parliamo di un altro signore si chiama edgior e stavamo riflettendo edgior è molto teorico il contributo più importante che si chiama core core equilibria è di una certa rilevanza però un po' complicato teoricamente non ne discuteremo oggi ma se ci viene la il coraggio ma è la settimana prossima la prossima lezione lo usiamo perché forse può essere utile per capire alcune cose che servono che accadono in italia prego dario intanto appunto iniziamo con pigu e di eggiort arriveremo alla box alla scatola di eggiort e poi appunto il core lo lo faremo al prossimo giro faccio share screen così andiamo a cercare le slides ok allora quindi cominciamo da effettivamente allora perché ha senso iniziare a parlare di pigu perché torniamo anche magari un discorso che abbiamo già fatto del del benessere del welfare che effettivamente l'abbiamo già detto nella parte del marketing l'abbiamo già detto anche anche la lezione scorsa l'abbiamo già detto diverse volte che ci siamo anche anche in valvara l'abbiamo detto questa cosa che fondamentalmente con utilità che cambiano il benessere con utilità che cambiano utilità che possono essere influenzate il benessere non è detto effettivamente cosa sia quindi ha molto senso occuparsi innanzitutto dei meccanismi per accrescere questo benessere e poi di volta in volta in base al problema capire quanto questo benessere sia effettivamente analizzabile o quantificabile ma quindi è molto legato parlare di benessere e parlare di crescita perché il benessere è quello che incentiva le persone a muoversi in un certo modo e in base a come lo fai questo benessere può aumentare la crescita oppure in altri casi può esserci benissimo un benessere che però è one off che succede una volta che era appunto come la crescita di cui parlavamo all'inizio no che dicevamo che i classici pensavano che fosse una crescita di una volta perché effettivamente se c'è un benessere senza crescita fondamentalmente c'è un aumento di cose di cose create le persone le consumano e poi si ritornano all'inizio quindi in questo caso il benessere esiste ma non crea altro benessere invece se noi parliamo di benessere che ha in sé dei meccanismi per fare in modo che le persone siano incentivate a crearne di altro invece che siano incentivate di consumare vediamo che le persone stanno mettendo in un percorso per creare un nuovo benessere quindi detto questo vi parlo di un tipo di meccanismo che c'è per migliorare il benessere e per incentivare le persone dopo che hanno dopo che hanno creato qualcosa che crea benessere a distribuirlo meglio comunque ripagarsi in modo che le persone in futuro abbiano comunque voglia di rivedere ancora questo benessere di non fare una questione di chi vince e chi perde ma cercare di rendere come qualcosa dove più persone collaborano a questo benessere così è più duraturo e quindi si supera la cosa del benessere che succede una volta ecco quindi pq fondamentalmente innanzitutto si interessa anche della diseguaglianza magari appunto per anche lui insegna in Inghilterra si interessa di diseguaglianza però si interessa di diseguaglianza in un modo effettivamente che aveva senso ed era anche che anche veniva dall'idea marginalista cioè se le persone più povere hanno o hanno meno reddito è la loro utilità marginale cioè il benessere che hanno avendo 100 euro in più è più grande del benessere che quelli stessi 100 euro avrebbero su una persona più ricca allora ha molto più senso che tu lavori anche per dare 100 euro a quello che ha di meno piuttosto che darne 200 a quello che genera di più perché la loro utilità soggettiva e quindi anche lì cioè complessa da vedere e che varia nel tempo perché variando anche la loro ricchezza può varia nel tempo l'utilità marginale di questa persona è più alta quindi ha anche senso iniziare ad interrogarsi non in maniera assoluta ma in maniera marginale relativa quindi l'utilità marginale dei poveri è più alta e già solamente questa cosa qua incentiva le persone incentiva il programmatore diciamo chi deve dare dei meccanismi a pensare al fatto che i poveri abbiano un'utilità marginale più alta e questo lo pensa anche Edgeworth ma appunto di questo ne vedremo è la grande epoca dell'utilitarismo no e quindi c'è questa teoria il problema è il grande limite dell'utilitarismo come come etica come teoria morale no da un lato si implica questa cosa strana per cui strana perché se ci pensate richiede di poter confrontare la risposta a questo argomento è ma tu le utilità come le confronti questa cosa richiede il confronto cardinale no l'utilità della mela in più in che senso è più alta se la do a Dario e non a Michele questo implica che possiamo confrontare l'utilità marginale l'utilità l'indice di utilità di Dario e Michele cioè che abbiamo tutti la stessa funzione di utilità con la stessa unità di misura eccetera altrimenti dire che la sua utilità marginale è 3 e la mia è 2 non vuol dire nulla e qui c'è l'osservazione che tutto quello che riusciamo a dire sulle funzioni di utilità personali nella misura in cui esistono è che sono ordinali mentre ordinali vuol dire che danno un ordine ecco qua bisogna per spiegare se vuoi farlo tu la differenza tra utilità ordinale e cardinale sull'utilità cardinale casca un po' il palco dell'impostazione utilitaristica perché bisogna che sia cardinale per riuscire a fare il ragionamento appena fatto altrimenti non ha nessun senso confrontare i numeri non ha nessun senso confrontare i numeri ma sì allora l'utilità cardinale fondamentalmente è che tu puoi dare un numero a ogni evento che succede quindi il fatto che ti stanno una mela ti dà 3 e invece la mela se me la prendo io mi dà 6 ora nell'idea cardinale dovrebbe essere semplicemente che io ho un benessere due volte più grande del tuo con l'idea cardinale effettivamente questi numeri vogliono direttamente dire qualcosa cioè se io ti dico a me l'utilità della mela è 20 e la tua invece 5 vuol dire che io sono più contento di te quattro volte ed effettivamente dire guarda senti dammi questa mela perché io sono più contento di te quattro volte non ha molto senso e infatti la cosa che di solito si dice è dammi questa mela a me perché io sono più contento di te e questo infatti è l'unità ordinale cioè i numeri servono solamente a dirti chi deve avere questa cosa qua perché viene prima e quindi infatti in microeconomia adesso quando si quando si quando si arriva a una soluzione di un problema che sia di qualunque tipo di vedere la domanda vedere il prezzo eccetera si dice semplicemente l'effetto marginale è più forte da un lato più forte dall'altro non stai lì molto a programmare quanto un effetto di sostituzione ti rende più felice rispetto a quanto il prezzo ti rende meno felice cioè stai lì a dire ok l'effetto in questo caso è più importante il prezzo o è più importante la sostituzione insomma questa è questa è la è la differenza con l'ordinarità ora l'utilitarismo di quel tempo sì perché effettivamente è un utilitarismo un po più un po più ingenuo anche vicino a quello bentamiano che veramente voleva assegnare il valore ad ogni azione umana cioè diceva l'azione umana questo tizio questa questa azione umana x sesso nuotare eccetera vale questo numero qua e quindi in questo modo qua riusciremo a capire cosa una persona dovrebbe fare perché ci basta solamente prendere questi numeri sommarli e dire ok questo è più felice questo è felice tanto così e questo sarà felice tanto così effettivamente l'utilitarismo per me a livello ordinale continua ad avere senso però appunto si va a vedere che gli utilitaristi poi via via che va avanti diventano alla fine consequentialist cioè perché poi diventa la questione diventa filosofica comunque diventano delle persone che dicono c'è questo dilemma qui non è tanto filosofico è proprio come diavolo lo fai cioè come fai ad aumentare l'utilità totale se non riusciamo a confrontare l'utilità di mia con la tua e si deve tornare al singolo cioè si può tornare in base al problema si torna al singolo problema distributivo cioè si viene a dire di solito infatti i anche Derek Paschett per esempio fanno dei problemi tipo io sono intrappolato e c'ho la gamba in un tombino poi c'è un bambino accanto a me che faccio lo uso per salvarmi e muore il bambino cioè si va sempre molto di più al singolo evento non si dice in generale cose così e da lì si cerca di fare una strazione ora secondo me in un certo senso perché inizio a dire questa è la mia questa è la mia funzione di risposta cioè se succede un problema di questo tipo io ho la precedenza rispetto a te per tutta una serie di motivi però non posso pensare di confrontarlo la serie di motivi però non è che sia proprio così ovvia l'intera cosa continuamente c'è sotto la debolezza dell'utilitarismo qual è è che ritiene di poter dare una valutazione sociale oggettiva no perché l'idea è fondiamo le politiche distributive in generale va benissimo c'è molti non si rendono conto che tutto è redistributivo no sono intrappolato nel tombino uso il bambino o no è redistribuzione con argomenti piuttosto dubbiosi perché appunto si assumono tutta l'esistenza di sempre l'esistenza di un essere superiore divino che sa confrontare dal punto di vista della società che non hai ben capito chi sia no l'utilità dell'uno l'utilità dell'altro non ti pare io non sono mai riuscito a uscire da questo conandrum nel leggerli e rileggerli allora gli utilitaristi quelli più classici con sidwick e tutto il resto sì perché stanno troppo attaccati a questa idea cardinale ma rivedo io vedo quelli più moderni ma anche leggendo utilitarisme oltre di sen o leggendo i propri conseguenzialisti moderni sia parsit che altri è un'idea che principalmente c'è un singolo evento e nel singolo evento devi capire che che sta meglio e giustificarlo ora ovviamente quando hai metodi di misurazioni imperfetti dovrai tenere anche in considerazione che puoi sbagliare e allora che ne so con la mia ragazza stessa ne parliamo di questa roba qua le critiche agli utilitaristi vecchi e appunto dice che ne so una critica che si faceva era che l'utilitarismo pensava ad esempio stiamo andando un po fuori tema no perché dipende anche le persone che che devi massimizzare capito cioè perché nel settecento non massimizzavi che ne so l'utilità delle donne quindi anche lì diventa sempre una questione che alla fine si deve finire a dire qual è il problema singolo e puoi dire solamente qualcosa sul singolo problema quindi di quell'evento lì io posso dire sarebbe meglio fare questo per questo 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 però la generalizzabilità del problema è difficile da fare ed è un fallimento dell'utilitarismo in questo caso sì lo devi fare di volta in volta devi sempre porre un nuovo problema però ecco chiudiamo questa questa parte di utilitarista beh potremmo tornarci perché se noti non c'entra assolutamente niente a mio avviso il fatto che si vada i casi particolari perché comunque il problema del confronto rimane ma andiamo tranquillamente avanti andiamo tranquillamente avanti ci saranno occasioni quindi sì allora comunque c'è questo approccio di massimizzare l'utilità da cui da cui poi da cui ne deriva anche questo fatto qui che effettivamente torna a questa idea di compensazione perché tutti quanti abbiamo un numero effettivamente della nostra della nostra utilità allora vuol dire che io faccio entrare qualcosa nell'economia che sia che ne so una nuova industria e la nuova industria da beneficio 100 al capitalista beneficio 10 a ogni singolo lavoratore che ne fa parte e lo sommo e questo è il benessere che la creazione di quell'industria ha portato ora questa creazione dell'industria porta anche degli scontenti e porta il fatto che ci saranno delle persone che avranno meno 10 anche qui vedete cioè qui non si sta dicendo il capitalista è più felice del della della massaie che si ritrova i panni sporchi il capitalista è più felice di 10 massaie che si trovano dei panni sporchi quindi già si sta pensando a sommare le utilità delle 10 massaie quindi vedi c'è c'è proprio l'utilizzo cardinale della cosa cioè io posso dire che 10 massaie la sofferenza di 10 massaie che devono rilavare i panni per i fumi non vale tanto quella di 10 lavoratori che hanno avuto il loro stipendio o del singolo capitalista che ha avuto il profitto e quindi sto paragonando già l'utilità di 10 persone con quella di uno che è una cosa che posso fare solamente se io uso l'utilità cardinale perché effettivamente quell'ordinale non ha senso perché chi viene ce dovrebbero venire prima 10 persone tutte in una o una singola persona quindi diventa un po' più complesso e in questo caso qua quindi si dice ok io ho fatto entrare questo beneficio misuriamo lo scontento che ne viene da questa industria che al tempo appunto pq parlava del fatto che devono si preoccupare del fatto che i panni si sporcavano per i fumi ma c'è anche dei problemi più gravi immagino per questi fumi ovviamente quindi insomma teniamo in considerazione malattie respiratorie eccetera eccetera e possiamo dire che se quell' investimento fa più bene che male allora è possibile fare fare qualcosa cioè visto che questo investimento fa più bene che male noi possiamo ridurre tanto ridurre il beneficio il profitto lo stipendio dei lavoratori in quell'industria eccetera eccetera tanto quanto serve per giusto per compensare quello che è successo a queste persone e far continuare comunque esistere quell'industria che darà quei benefici quindi la somma totale sarà positiva e questo effettivamente la compensazione dell'esternalità negativa ora appunto con un'idea con un'idea cardinale funziona molto di più perché riesci proprio a dire ok questa cosa qui ha senso farla perché la somma di benefici e costi è positiva e invece nell'altro caso la somma di benefici e costi è negativa e quindi non si deve fare però effettivamente poi nei fatti non si riesce a fare molto questa cosa qui anche perché le persone magari non gli va bene solo essere compensate magari agiscono strategicamente e dicono che la loro disutilità è più grande quindi vedi un altro problema di di una volta che uno fa e ti compensa no? E qui veniamo al problema fin dalle problemi distributivi infiniti che appunto tutto l'argomento dell'esternalità non riesce a risolvere no? E cioè che l'effetto negativo che causi su di me o positivo un conto è misurarlo oggettivamente un conto è asserirlo a quando c'è una parte terza che o te lo paga o te lo o te lo carica. Sì perché è la grande critica che tutti associano a Hayek ma in realtà è molto presente nella testa di economia che prima di Hayek ha grande merito di averla sottolineata insistentemente. Non so se vuoi spiegarla tu perché è l'argomento di fondo nel momento è la questione dell'esternalità è essenzialmente la fonte del bene pubblico no? L'idea che esistano beni pubblici e la gestione dell'esternalità è come dire in un certo senso la pietra miliare la montagna il punto di fondo fra statalisti e antistatalisti se volete oppure fra chi ritiene che ogni problema economico ogni meccanismo di inefficienza o di possa essere risolto con un intervento cosiddetto pubblico e cioè di un apparato statale e chi ritiene che non tutti i problemi possono essere risolti in questa maniera. Appunto la cosa che visto che le persone si aggiustano strategicamente quando tu metti in essere un meccanismo che ti dice guarda quello che tu dirai che ti fa male io te lo ripago troverò il modo di ripagartelo. Ora queste persone effettivamente possono dire che quell'industria gli fa molto più male di quello che effettivamente gli fa perché cercheranno non di far chiudere l'industria prima di aprire perché effettivamente a loro conviene molto di più farsi pagare un po' di più di quello che effettivamente il loro la loro disutilità così hanno proprio un profitto da queste cose qua. Quindi una persona cercherà piano piano di riportare di più di quella che effettivamente la sua disutilità e allo stesso modo la persona che invece produce cercherà di non dire quanto effettivamente lui fa cioè di sotto di sotto mostrare il beneficio che gliene viene quindi con questo tipo di meccanismi non si riuscirà ad arrivare alla buona informazione quindi il meccanismo riparatorio di questo problema ha un effetto che spesso non si pensa che è una cosa di uccidere cioè uccidere una parte dell'informazione peggiora la qualità dell'informazione tu stai migliorando la qualità dell'aria in teoria ma stai peggiorando la qualità delle informazioni che ti arrivano perché senza meccanismo tutti quanti sono lì solamente a pensare al loro interesse quindi ovviamente uno dirà quando sono triste del panno lì fuori e penserà il vero il vero il vero valore di disutilità che gli è venuto da quel panno che era sporco ma quando poi già c'è un meccanismo fuori esterno che ti dice allora quanti soldi vuoi per per stare tranquillo ovviamente tu direi di più e quindi questi meccanismi qui sì hanno questo problema qua che c'è una delle persone che dicono c'è un bene pubblico e all'interno di questo bene pubblico le persone dovrebbero essere compensate in base alla loro disutilità ma allargando il numero di beni pubblici pensato e avrà molti incentivi per non mostrare di stare bene e quindi questo poi può essere generalizzato ma tutta un'altra serie di cose hai che infatti la utilizza in maniera anticomunista di base cioè si inizia a dire se tu veramente hai un sistema che dice ciascuno secondo i suoi bisogni secondo i suoi benefici no ciascuno le suoi abilità comunque è ovviamente ad ognuno secondo le sue capacità ognuno secondo i suoi bisogni e la probleme osservazione banale è cosa sono i miei bisogni cosa sono le mie capacità non lo so neanche io l'etalona e gli altri quindi come faccio ad avere un truth telling il problema del truth telling no abissale in economia è come è che è forse la cosa più importante dal punto di vista teorico il riconoscimento che le persone non dicono la verità anche anche in buona fede non dicono la verità ok le persone si comportano strategicamente in tutte le situazioni in cui definire la propria utilità il fastidio il costo la fatica la necessità il bisogno le capacità è in maniera non corretta e del tutto conveniente perché poi i meccanismi lo studio della psicologia neuroscienzi ci dicono che non è detto pensate la capacità di fare sforzo è plateale è plateale che molti di noi ognuno di noi ha scoperto in attività sportive in questioni di lavoro in in mille altri contesti anche di cantare che cavolo nei sodidi che a seconda delle circostanze degli incentivi ha riusciamo a fare cose di cui non ci avremmo aspettate no che la prospettiva o ben della punizione che può essere anche fisica no o ben del reward ci spinge a mettere un effort chiamiamolo a tirar fuori capacità umane che non pensavamo di avere in situazioni normali non tiriamo fuori c'è poco da fare mille sono gli esempi non mi metto neanche a farli perché ognuno si riflette un attimo su se stesso si rende conto che la capacità di fare o non fare di concentrarsi o non concentrarsi produrre o non produrre saltare o non saltare soffrire o non soffrire resistere o non resistere a dipende molto dalle circostanze concrete degli incentivi e che a volte scopri te stesso se così è però tutta l'idea di a ciascuno secondo i suoi bisogni da ciascuno secondo le sue capacità casca perché senza meccanismi che generano incentivi che possa che riportino questo truth telling a non scopriremo mai nei bisogni nelle capacità e questa è la grandissima osservazione appunto di tanti da cui nasce la letteratura di meccanismo design per dire ma non so ma non so ah sì sì certo poi si potrebbe anche parlare un po del sì però diciamo di parlare di teoria economica possibile immaginabile perché tutto si connette quindi stiamo un po' dai stiamo un po' su queste cose se no altrimenti esageriamo comunque è del tutto importante sì quindi ovviamente io ho un meccanismo che vuole queste informazioni e dice ok visto che queste informazioni cioè quando il meccanismo viene fatto le informazioni sono più pulite perché le persone semplicemente vengono a te e ti dicono ok c'è questo problema qua guarda è una cosa che non c'era il meccanismo per per compensarti quindi il problema è molto semplice da vedere le persone sono aggiustate in un mondo in cui non c'è questo meccanismo per compensarsi quindi effettivamente lì è facile vedere chi sta male e chi sta peggio ma quando tu metti questo meccanismo perché hai queste informazioni stai sì avendo a che fare con questo problema stai migliorando la condizione di tutti quanti ma stai anche peggiorando in futuro le informazioni che ti verranno quando quello stesso problema si ripresenterà quindi evidente c'è proprio questo problema che si ricollega sempre molto alla crescita informazione e crescita assieme che fondamentalmente quando le buone informazioni ti porterà più probabilmente ad avere un meccanismo che ti continua a far perseguire la crescita ma un meccanismo di riparazione può essere di qualunque tipo c'è un reddito per le persone che non lavorano eccetera eccetera per avere un reddito per le persone che non lavorano devi sassare certe persone che invece lavorano per darlo a queste persone qui quindi prima quando quando tutti o lavorano o non lavorano hanno il loro beneficio e il loro costo lì e quindi effettivamente si si vede abbastanza facilmente chi sta in una condizione brutta perché non sono perché ha avuto uno shock e non non poteva fare altro perché sennò starebbe a lavorare ma dopo che tu metti quel meccanismo lì avrai diverse informazioni non capirai se chi è veramente non può lavorare oppure lo faceva lo faceva per altri motivi ma anche solamente il fatto è facile pensare quando una persona dice ah voglio imparare questa cosa qui per effetti meno all'università tipo io che volevo imparare della grangiane da solo non ci ho riuscito perché mi metto lì e non c'ho proprio l'incendio non c'ho l'homework non c'ho l'esame non c'è anche volendo anche con molto piacere poi c'è sempre una cosa ordinalmente migliore da fare quindi alla fine finisce che non le riesci a fare bene ti basta che ci sia un professore un esame cose del genere che tu diventi molto più bravo a quella cosa lì ora non è solamente una questione di diciamo main up di avere a che fare con i problemi perché i problemi vanno bene però effettivamente i problemi sono un ottimo modo per capire veramente chi è quello che li può risolvere chi è che non li può risolvere e vedendo questa cosa qui si ha la crescita perché avrai persone che si metteranno a risolvere certe cose e a produrre certe cose se tu invece avrai un meccanismo che aiuta le persone che non riescono a fare questo sforzo qui questo sforzo di produzione molte più persone saranno incentivate a non farlo quindi questo è la la compensazione dell'esternalità e i problemi informativi che che ne derivano ora introduciamo perché effettivamente mi sa che siamo alla mezz'ora quindi possiamo anche introdurre semplicemente andiamo andiamo rapidi perché altrimenti rischiamo beh d'altra parte alcuni di questi temi non sono per niente ovvie quindi se le persone che ascoltano sono interessate a capirli alcune delle digressioni che abbiamo fatto insomma no sì sì hanno senso sono tutti interessanti secondo me però eh sì alcune svariano più di altre comunque eh Edgeworth intanto appunto parleremo del core la prossima volta ma intanto possiamo dire che visto che abbiamo appena fatto vedere che ci sono due individui che devono per adesso sono due cioè sono tipo dieci massaie eh o un capitalista facciamo che ci sono due lavoratori che si devono spartire i benefici del proprio lavoro facciamo e quindi possono aggiustarsi in modi diversi da questo punto di vista qui eh nella lezione del core faremo anche il il legame con con Valera per adesso diremo semplicemente che Edgeworth ha avuto a che fare con questa idea distributiva con eh la sua Edgeworth box cioè con la sua scatola lui effettivamente dice ci sono due persone che possono contrattare perché hanno appena prodotto qualche cosa o perché devono gestire la loro futura produzione e capire poi come spartirsi quello che hanno fatto e quindi possiamo metterli in una scatola e in questa scatola noi possiamo vedere che abbiamo appunto eh la quantità X di una persona la persona A la quantità Y di una persona A facciamo appunto eh non ne so due beni quindi pane e Nutella e e dall'altro lato pure però sono di due persone diverse che devono decidere quanto spartirsi in base alla loro utilità e quindi loro possono prendere e con gli stessi due beni che devono decidere sono due beni e due persone e in base a dove si mettono loro in quella scatola lì loro avranno una diversa allocazione perché dobbiamo immaginarci uno spazio che ha tutte le combinazioni dovresti spiegare cosa sono quegli assi cosa sono quelle curve perché per te sono come dire è come le patatine pai però eh allora la la curva XA è la quantità del bene sul quadrante ci sono anzitutto due beni e due persone dai allora il quadrante cartesiano eh vuole descrivere eh due cose allo stesso tempo faccio io che ci sono abituato l'ho già insegnato tante volte Dario impara come insegnare legger box allora stiamo considerando due persone Dario e Michele che hanno entrambi mele e pere e hanno una certa quantità di mele e una certa quantità di pere ognuno dei due e stanno pensando i due ma scambio con con l'altro magari gli do un po' di pere lui mi da delle mele o viceversa ecco allora per rappresentare questa situazione prendiamo i due assi cartesiani partite da O A io sono il signor A Dario il signor B dopo veniamo al signor B il signor A che sono io sull'asse orizzontale ha le mele sull'asse verticale ha le pere quindi X A è la quantità di mele che ho io Y A è la quantità di pere che ho io ed ha un punto per complemento siccome c'è una quantità totale di mele e totale di pere la somma delle sue e delle mie sullo stesso punto ma a rovescio quindi dovete rovesciare il vostro punto di vista l'origine lì è OB la distanza fra OB e XB è la quantità di mele che Dario ha e la distanza fra OB e YB è la quantità di pere spero di aver mantenuto gli assi intatti che Dario ha. Dario ha fatto un grafico molto egualitario molto 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 walk e quindi abbiamo esattamente le stesse quantità tutte e due quindi commerceremo se solo se cosa se solo se che so lui ama le pere molto più di quanto ami le mele e viceversa io amo le mele più di quanto lui più di quanto amo le pere altrimenti non commerceremo perché abbiamo ok bene cosa può portarci a commerciare questo fatto che ho appena detto che ci sono delle preferenze diverse abbiamo una distribuzione uguale dei due beni ma a me il bene A lasciate che dica A e B perché se no piaci di più del bene B quindi di mio ne vorrei un po' di più e sono disposto a rinunciare a B viceversa lui preferisce B ad A e quindi se gli do del B lui mi dà in cambio dell'A e siamo entrambi più contenti d'accordo? Com'è che rappresentiamo questa cosa? Con queste curve di indifferenza per chi non è economista quelle curve rosse se guardatele bene sono fatte quelle mie no? Che hanno la lettera A scusate fatto casino con la roba di A e B le persone sono A e B i beni sono X e Y che cojone allora se voi guardate le curve che hanno la cosa I A il primo A vanno in giù cioè cosa vuol dire? Che se segui la ognuna di quelle curve calano gli Y e aumentano gli X ok? Prendete la prima calano gli Y e Y l'idea è che quelle rappresentano le combinazioni di Y e X che per me mi danno la stesso piacere tantissime Y poche X oppure mano a mano che cambiano arrivo a un certo punto in cui ho tante X e poche Y e poche Y oddio sembrano delle iperbole equilatere per cui temo che implichino che ci piacciono più o meno uguali quindi lo scambio non ci sarà però vabbè ovviamente se dalla I A passo alla I primo A la mia utilità totale aumenta perché ho per ogni combinazione ho più sia dell'uno che dell'altro e così via lo stesso per le tre curve B ecco adesso passo la parola a Dario di nuovo che ci spiega cosa succede quando ci avviciniamo al secondo grafico come si arriva al secondo grafico ah sì sì ovviamente in tutto in queste queste curve qui fondamentalmente stanno mostrando tutti i punti in cui io sono indifferente nel senso che tutte le combinazioni di Y e X su quella curva mi danno la stessa utilità anche qui stiamo per una utilità misurata anche lì in maniera cardinale quindi stiamo dicendo che io nella I secondo A I apostrofo apostrofo A vuol dire che sono più contento rispetto alle altre due curve però io sono più contento rispetto a tutte le altre curve ma all'interno di quella curva quindi se io mi muovo nella curva rossa e secondo A io sono contento allo stesso modo però in tutti quella in tutta quella curva e secondo A io sono di sicuro più contento che nella prima curva A e nella seconda curva A ora se noi prima facciamo avanzare questi queste curve qui vediamo che a un certo punto sia la curva mia che la curva dell'altra persona si incontreranno ora nel nel secondo caso le curve sono abbastanza diverse come vedete in questo primo caso sono sono hanno una forma tale che si incontreranno in un punto che è il punto centrale cioè il punto da cui siamo partiti quindi se io e te abbiamo la stessa utilità allo stesso modo per entrambi i beni vuol dire che te non scambieremo alla fine perché se già ne abbiamo metà io e metà tu e di quantità proporzionalmente uguale vuol dire che non avremo incentivo per scambiare invece qui Edgeworth fa vedere che appunto il confronto con Valera qui viene perché in Valera c'era semplicemente una sorta di obiettivo di scambiare per far sì che il mercato fosse pulito cioè che chiunque volesse vendere a quel prezzo vendesse chiunque volesse comprare compra e basta proprio qualcosa di fisico cioè c'è qualcosa che viene e noi dobbiamo gestirla e dobbiamo tirarla via dobbiamo tirarla fuori non deve esserci nessun bilanciamento invece abbiamo proprio un esempio di persone che hanno delle caratteristiche alla base anche diverse ma che poi possono iniziare a decidere di scambiare e quindi effettivamente qui la strategia serve a questo cioè serve a far capire come le persone si possono aggiustare e possono avvicinarsi l'uno con l'altro in base ai punti in cui loro sono indifferenti per dire ok effettivamente io partendo da questo punto in cui ho una curva più bassa posso raggiungere una curva più alta e quindi aumentare la mia utilità in tutta una serie di punti se l'altra persona pure potrà raggiungere una curva di utilità più grande e allora vuol dire che entrambi abbiamo un punto in cui sia io sia tu ci stiamo aumentando l'utilità quelli sono i punti in cui noi possiamo scambiare perché effettivamente con le nostre utilità diverse perché non abbiamo la stessa utilità di mele e di pere perché abbiamo dei gusti alla base diversi e delle quantità a casa di mele e di pere diverse e quindi possiamo benissimo dire ah effettivamente adesso che scambiamo io posso trovare un punto in cui sto meglio di base non lo so cioè perché è conveniente andare a un supermercato perché tu hai un punto di utilità una combinazione di mele e di pere che deve essere positiva perché ti servono e il mercato invece ne ha già molte ed effettivamente aumenta la sua utilità vendendotele a te cioè riducendo la sua quantità di mele per grandissima e danno una parte a te e tu effettivamente paghi questo sforzo qui nel supermercato aumentando la tua aumentando la tua utilità quindi quasi a proprio si inizia ad avere un senso di ogni singolo scambio non dello scambio in generale che appunto è solamente fatto da una serie di persone che hanno i loro beni e si devono scambiare a un prezzo che fa in modo che nessuno si insoddisfatta ma proprio di andare a vedere la singola persona che commercia con l'altra singola persona per questo è molto interessante qui vedere che non stiamo più parlando del macro ma stiamo parlando del micro stiamo parlando di due persone che decidono di scambiare e questo serve molto in generale questo è quando si parla di micro fondazioni perché se tu hai un modello che parte da queste cose qua è molto più vicino alla vera e propria preferenza che fa iniziare tutto quindi la tua interpretazione di solito sarà più accurata perché tu stai partendo proprio dall'esempio alla base reale che è molto più vicino alla vera utilità e ai veri motivi per cui le persone fanno una certa cosa per questo si ha questo interesse si ha questo interesse micro anche nell'economia e questo è un esempio di noi avevamo una interpretazione macro più grande più imprecisa cioè giustamente spiegava molto ma è più imprecisa e adesso siamo andati nel micro e abbiamo visto che quel fenomeno macro viene spiegato da un incentivo molto facile da capire e che spiega semplicemente due persone che si devono capire come gestire delle quantità che hanno già la base e questo appunto e questa è per esempio la curva di contratti che spiega perché le persone si scambiano questo ovviamente crea crescita perché appunto ci sono delle persone che avranno incentivo per andare nel mercato per produrre e per scambiarle con altre persone che saranno disposte a ad avere a quel prezzo lì e poi ovviamente con l'utilità che cambiano ci sono le persone che continueranno a farlo quindi io direi che ci fermiamo qua perché siamo andati un po' lunghi e quindi tutte le parti che poi seguono sul cuore eccetera le lasciamo nella prossima lezione direi che va va bene cosa dici togliamo diamo un saluto diamo un saluto a tutti eccoci qua mi metto anch'io compaio e ottimo è un po' di teoria economica c'ha le sue complicazioni è la grazie Dario ciao caro ciao 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 ciao